... rivolta all'educazione finanziaria dei giovani. Il mouse per vincere la crisi. Gli italiani si affidano al web per andare in vacanze, a trarne vantaggio e l'intero settore. Il dato emerge dall'annuare rapporto di Union Camere sul turismo. Sentiamo Federico Plotti. Nonostante i problemi e le difficoltà dovute al momento economico che continuano a turbare il futuro di molti settori produttivi della nostra società, quello del turismo sembra invece uno dei pochi capaci di reggere almeno discretamente l'impatto con questa crisi. Questo secondo Isnart e Union Camere che hanno pubblicato oggi i dati dell'annuale rapporto su imprese e turismo che fa riferimento all'anno 2011. L'industria della vacanza nel suo complesso tiene bene il comparto alberghiero grazie anche a un aumento dei turisti stranieri, stabile il numero di camere vendute nelle strutture ricettive grazie al marketing dei prezzi in calo nella bassa stagione. Bene dunque, ma non benissimo, servono certamente nuove politiche a sostegno di un settore che rappresenta da sempre un fiore all'occhiello per il nostro paese. Le politiche che abbiamo fatto finora, anche se sono state utili, importanti, interessanti, devono essere modificate. Oggi lo scudetto si vince insieme. Ognuno singolarmente non può, anche se è bravo, anche se ha qualcosa di unico e di prezioso, non può competere da solo. E credo che ce ne insegnano anche altri paesi del mondo che hanno fatto delle politiche diverse, hanno fatto delle politiche forse più generalizzate, hanno dato un'immagine più complessiva di un paese per poterlo far diventare veramente protagonista. Altra questione importante è quella dell'innovazione. Almeno qui sembra che il nostro paese stia prendendo decisamente la direzione giusta. Oggi otto imprese dell'industria vacanziera su dieci sono presenti in rete, consentendo il booking online. Pratica ormai diffusa all'estero come in Italia, dove ormai quasi un consumatore su due prenota il proprio vaggio attraverso internet, risparmiando non poco.